Ciao a tutti ragazzi, sono Atri, bentornati sul mio canale, siamo qua con la nona missione di GTA V. Nella scorsa eravamo con Michael e ci siamo approcciati a Life Invader, ovvero il Facebook di GTA e abbiamo palesemente fatto esplodere il telefono in faccia 1, cioè proprio detto così senza mezzi termini. Oggi continueremo e quindi ragazzi, like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo allo Santos ragazzi. Vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando, ovviamente, come potrei non ringraziarvi. Vamos! Ok beh ragazzi, direi di switcher a Franklin, perché vedo una missioncina calda calda per lui. Grandissimo, fra. Non c'è il veicolo personale? No. Ovvero starà da me per sempre, fantastico. Ok sì, non mi interessa di ciò, ma non mi interessa del taxi, sinceramente. No, signor, la mia idea non è grande. Hai alcuni cavi disponibili? Non è un problema, il driver è sul senso. Grazie. Grazie. Eccolo. Buono. Tanto ne è arrivato anche un altro, che palle. Va bene. Non cambiano le abitudini, eh. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio di quello di prendere il taxi. Sono incredibile io. Il vizio di quello di prendere il taxi, ok vabbè. Ci siamo capiti. Dovrebbe essere stretch libertà, giusto? Chiedo di sì, proprio. Ma se entrassi in casa e sentissi un casino così, cioè io veramente prenderei un fucile a canne mozze e farei il macello. E qui c'è ne frega? E qui c'è ne frega? Grande stretch. No, 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 show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dog. Oh, oh, you missed me, huh? No, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your mom, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha, ha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, man. We from the same set, stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dog? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker. I know little niggas like you've been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga. I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. All right. You keep thinking that. All right. All right. Shit. You gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Strizettes, come on, man. Cool out, chill, man. This motherfucking get on my goddamn nerve. This nigga get on my nerves, too, man. Part of the nigga charm, man. Come on, man. This is a bus to move, man. You gonna drive or what, bro? Drive where? Pick up this. Why? Business, nigga. You know business. Come on. Y'all niggas act like girls. Shit. Proprio, cioè, noi siamo presi come il fottuto autista. Vabbè, però passeremo dall'ammulation, quindi, cioè, non mi posso neanche lamentare volendo. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homies. Now, now, and you little homies is big homies, but you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid skiing bullshit. Pyramids, ugh, man. Illuminati barrel shit. What is he singing? Ragazzi, poi c'hanno tutte le voci simili. Che palle. Io che ci credo anche. Oh, no, da. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, alright? No, John, shut the fuck up. I got this, you clown. Alright, homie, get your shotgun with the flashlight modification. Hey, you got cash? Oh, you flat, homie? Oh, you flat, homie? I think you was fiended, but there ain't no fiends that fat. Oh, 1500. Granata. Pistola. Ehm, torcia. Niente, silenziatore? Beh, tutta roba. Ok. Yeah, you know, uh, we got felonies and we ain't touching shit. I ain't even looking. Ok. Che devo comprare? Garicatore steso? Fucile a pompa. Nel cazzo sta scritta, fra? Cioè, ma tu falisci la missione perché compri la cosa sbagliata? All right, homie, get your shot. Fatemi capire un attimo. Hey, you got cash? Oh, you flat, homie? I would think you was fiended, but there ain't no fiends that fat. Take this cheese, you old broke ass bitch. Now, just let me reinstate, man. If the purchase is made by this man, it ain't got nothing to do with the two gentlemen of Fela Nature. That's right. Ok. Yeah. A questo punto, cioè... Potevo anche comprarmi la pistola. Il giubbotto, signori, lo avete? Vabbè, vediamo il super leggero. Che devo fare? Meglio di nulla. Andiamo, coglioni. No, homie, we got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my hunt, nigga. I've been fiended. You probably ain't tightened up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, 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 homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. Hey, we meetin' them here. Man, how'd you find this place? Homie set it up. Facciamo le persone serie, va? Kind of spot where we ain't gonna be disturbed. Ha ha ha! What's up, fool? What up, dude? We got that shit, nigga with a paper head. Nigga, I'm talking about VUKUFILD. Lamar Davis. What's up, boy? Everyday cool? Come on, man. What the fuck? Man, you was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. No real, recognize real. D, my nigga just got out, crossing lines. Did some time with some of your foe. Hey, look. Fantastico perché sti qua, come a GTA IV. Sono amici amici per la pelle. Uno dice una sola parola fuori posto e sono fottuti. Cioè, cominciano a spararsi l'un l'altro. Nigga, that's some bullshit, man. Fuck you. Hey, with the setup, nigga. This shit, fuck you, nigga. Visto? Come on, through here. Oh, come on, through here. Oh, come on, now. Bello. You see that shit? Man, you must go. This guy. Fuck you, man. Vabbè, dai, missione. Dopo tutto il GTA Online che mi sono fatto. Direi che questa è abbastanza easy peasy. Dai, più resistenza, dai. Si apprezza. Eh no, però deve essere più attivo, Franklin, eh. Mi ha fatto accogliermi. Sto scemo. Vieni. Fuori un altro. Dai, manchi solo te. Ok, il duello l'ho perso in partenza ma l'ho vinto all'arrivo. Dai. Ciao. Per fortuna hanno armate del cazzo quindi riusciamo bene o male a svignarcela. Boni. Pulito, pulito. Oh. Ci dobbiamo stare tutti lì dentro, però, eh. A lungo andare dico che il giubbotto antiproiettile è stata una buona scelta, posso dirlo. Aspetta. Vieni. Vai. Non potevo farlo col fucile. Bono. Ho preso anche troppi colpi, vabbè. Kit medico si appezza. Bello. Oh, la festa è finita, signor. Ok, sono indistruttibili, ho capito. Ciao. Minchia, tre stelle. Per una guerra di droga? Solo? Vai. Ma prima te tanto, se no mi butti giù. Non me la ricordavo così avvincente questa missione, sinceramente. Devo dire che... Mi devo ricredere. Vediamo. Diamo via la fuga, signori. I wish I was in jail. Not running with you, fool. I don't believe in front of my car, mate. See? I don't know. I don't know. Keep them rowers off. Ciao. Pere pe pe. Inculato. You got weak ass vision, homie. Questo a volte funziona. Lo vado mo' qua. Che cazzo, però. Non si prende la scorciatoia e rimane inculato comunque. Bene. Voglio vedere se mi vedete ancora da qua. Merda. 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 Andiamo di qua. Bello. Totalmente contro mano. Ma mica è così che fanno i campioni. Uno che sta arrivando. Un altro che sta arrivando. Inversione di marcia. Di qua. Minchia, capirci con tutte ste strade che si incrociano proprio... Vaffanculo. Ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, take us somewhere where we can get it in, homie. I'm driving back to my crib, man, all'a'ight? Hey, what the hell you walked me into back there? Shit, man, you the one popped his ass. I did the necessary. Yeah, thank you for that, dawg. This all on you, LD. Blank, you dumbass. Me? Hey, I ain't know the fools gonna roll over. If you started something with the ballers, shit. I don't care if you cgf for life, man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't cgf for life. Cause all that mean is we giving you... Adesso come spegne sta macchina, oh. Foreign gangsters. Oh, no, no. È velocissima. I'm gonna read across lines, all right? Conversate with the... Ma sicuramente avrò fatto 50%. Ne sono sicuro, sicuro. A post. Rip moto. Fatta 50% sicuro. Ma lo sapevo. 10 colpi la testa col pomper. Eh, lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo. Va bene, la prossima sarà per Myhole. E quindi direi... Che possiamo salutare Franklin. E va bene, ragazzi. Io vi saluto. Noi ci vediamo alla prossima missione. Dove finalmente potremo dire... Di poter preparare il primo colpo. Da avrei è tutto. Alla prossima. Like al video. Iscrizione al canale. La prossima sarà per Lester. Ispezionando la gioielleria. Grazie, ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.